Adesso che sei più vicino ti rendi conto che non si tratta di voci umane Si tratta piuttosto di grunniti e squittini Sei l'arte dell'affinità animale, scegli il dragone Altrimenti devi oltrepassare il tronco e affrontare ciò che ti aspetta dall'altra parte Scegli il leone Da qui si capirà se hai scelto con saggezza quelle che sono le arti ramasse Vediamo come supererai questo ostacolo